Donna di carta e inchiostro, un titolo che riassume l'essenza del primo libro di Laura Di Stefano, il percorso di una donna raccontato attraverso delle pistole, un corteggiamento ritmato da una serie di email dove la protagonista svela le sue fantasie ma confessa anche le sue cicatrici. Un dialogo emotivo con il corpo che si snoda attraverso una relazione clandestina che mette a nudo l'anima di Letizia, una giornalista governata dai fantasmi dell'anoressia e della bulimia. Un amore non ricambiato perché Riccardo, il protagonista, vuole solo l'involucro di questa donna che però comprende che è ora di diventare adulta. Sceglie di cimentarsi nel romanzo erotico per il suo esordio Laura Di Stefano, una decisione nata per rompere gli schemi, per far parlare di sé, come ammette la stessa autrice durante l'aperitivo letterario che si è volto al ristorante American Bar Talè di Piazza dei Martiri a Catania. A presentare Donna di Carta e Inchiostro è stato il giornalista Anthony Di Stefano, mentre gli attori Mara Di Maura e Emanuela Puglia hanno letto alcuni brani tratti dal romanzo che la scrittrice ha scelto di autopubblicare attraverso il servizio di self-publishing offerto dal sito del gruppo L'Espresso ilmiolibro.it, che permette anche di acquistare il libro online o nelle librerie La Feltrinelli. Sono riuscita a tramutare come un uomo può vedere una donna nella sua sensualità e nella sua femminilità. Questa donna è stata liberata attraverso la fisicità, questa donna è stata liberata da un amore non ricambiato perché comunque Riccardo, che è il protagonista, ammaletizia solo nel suo corpo, però tramite il suo corpo apre le sue ali di farfalla. Una donna che ha vissuto l'anoressia e la bulimia, una donna che non riesce a guardare la bellezza nel suo specchio e che attraverso questo rapporto fisico riesce finalmente a vedersi bella, riesce finalmente a liberare la sua anima, riesce finalmente a diventare da bambina, donna e anche amante. Grazie.